ciao allora oggi voglio parlare di questa cipria che si chiama compact padware della sien quindi ecco del marchio e dei beauty della lidl allora la confezione è un 4,5 grammi il prezzo un euro e 79 e io ho usato e finito il colore 02 medium quindi il medio allora intanto come vedete dato che l'ho proprio finita completamente ti mostro cosa dire di questa cipria sapete che mi è piaciuta mi è piaciuta davvero tanto l'ho provata così per sfizio perché ero in negozio ho provato alcuni prodotti di make up e ho provato anche questa allora ve la mostro questa è la confezione e se la trovate in negozio prendetela perché io mi sono trovata davvero bene ho trovato che sia una valida alternativa ed è anche molto simile alla cipria compatta della essence però costa ancora meno di quella della essence io le cipria avendo la pelle mista cipria tutti i giorni non ci si può sbagliare e quindi ho trovato che mi piaceva mi piaceva davvero opacizza bene non tende a fare la pelle polverosa e come si dice non non mette in evidenza le rughette quindi la cipria polvere non va nei segni di espressione però opacizza tiene fisso il make up durante il giorno tranquillamente si può ritoccare statificare non va a creare macchie nel caso che delle pelle tende un po a ungersi mi è piaciuta con la mia pelle mista devo dire che tutto il giorno non dura se la applico al mattino al pomeriggio devo andare un attimo a ritoccare però ritocco è facile e stratificabile non crea macchie quindi mi è piaciuta davvero tanto oltretutto non ha profumazione ed è delicata sulla pelle non mi ha irritato la pelle o non mi ha irritato il contorno occhi ottima anche per fissare il correttore perché comunque è più o meno del colore della mia pelle naturale ho fissi il correttore fisso il fondotinta davvero valida quindi ve l'ho già mostrata questo ve la straconsiglio davvero fatemi sapere se per caso avete provato questo prodotto e come siete trovate io come sento spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto così vedete avvisate ogni volta che carico un nuovo video di make up low cost alla prossima ciao